Ciao sono Vittorio di Viva alla Focaccia.com e ho qui con me un amico del college, come dice il college in italiano? Università. Bravo, dell'università che si è trasferito e vive a un chilometro da me. E stasera alle che ore era quando abbiamo iniziato? Manca 20 alle 7. Gli ho detto ci scometti che facciamo un panettone genovese in 20 minuti e adesso sono lì? Sette. Le 7? Dov'è il pan dolce? In fondo. Eccolo qua. Bravo. Cuoce. Adesso vediamo come viene. Ecco qua, dopo praticamente un'ora quando abbiamo iniziato, ecco il nostro pan dolce genovese. Spettacolo! Fatto per una sfida con Piccinini. Adesso ti saluto a prendere per mangiarlo a casa. Piccinini è talmente pigro che ha mandato sua figlia a ritirare il pan dolce. Che lazzarone che è tuo padre. Dai andiamoglielo a portare.